Nel secondo dei sei paragrafi della seconda lettera di Seneca all'allievo Lucilio interagiscono le due grandi tematiche presenti in questa breve lettera, cioè le tematiche da un lato della lettura dall'altro lato del viaggio. Vediamo come. Il paragrafo inizia con un imperativo, con un'esortazione da parte del maestro all'allievo. Autem illum vide ne. Cioè, invece, fai attenzione a questa cosa. A che cosa? Ne. Ist a lectio habea taliquid vagum et instabile. Che questa lectio, cioè questa lettura di che cosa? Abbia, assuma, un qualcosa di, notate i due aggettivi, vagum et instabile. Di vago e di non stabile. Per Seneca è fondamentale leggere soltanto un autore alla volta, possibilmente un autore importante e ben selezionato. Se no, la lettura diventa fonte di distrazione, non di approfondimento. Diventa un qualcosa di vago e che non ci rende stabili, ma al contrario, superficiali e instabili. Il discorso procede poi in questo modo. Certis in genis, in morari, et in nutriri oportet, sivelis aliquid traere, quodinanimo fideliter sedeat. Partiamo dal verbo principale, un verbo impersonale, oportet. Oportet è necessario fare che cosa? Fare due cose. In morari et in nutriri. Di che cosa? Di certis in genis. E' necessario letteralmente indugiare e nutrirsi di in genis certis. Verrebbe da tradurlo di autori stabili, sicuri, affidabili. Siveli saliquid traere. Se vuoi ottenere qualcosa, se vuoi ricavarne qualche cosa, quod sedeat in animo fideliter, che si sedimenti in maniera stabile, duratura, nel tuo animo. Dunque, secondo Seneca, è inutile leggere contemporaneamente più libri di autori diversi. Basta studiare un autore alla volta, o meglio, un solo libro di un solo autore alla volta, perché lentamente si sedimentino delle conoscenze profonde nel nostro animo. Quod in animo fideliter sedeat. La lettura dunque come indugio in morari e come nutrirsi, come nutrimento in nutriri di autori affidabili in genis certis. E qui arriviamo, come dicevo prima, al paragone tra la lettura e il viaggio. Vediamo come. Nusquam est qui ubique est. Qui una delle tante sentenzie che hanno reso famoso Seneca. Letteralmente, nusquam est qui ubique est. Non è da nessuna parte, in nessun luogo, chi è dappertutto, chi è in tanti luoghi diversi. Questo vale ovviamente tanto per i lettori quanto per viaggiatori. E quell'esempio è proprio quello del viaggiatore. Vitam in peregrinazione exigentibus hoc evenit ut multa auspizia aveant nullas amicizias. Ecco l'esempio di coloro che passano tutta la vita da un viaggio all'altro. Accade questa cosa a chi exigentibus vitam in peregrinazione. A coloro che trascorrono la propria vita in viaggio, in un viaggio continuo. Accade loro che ut abeant multa auspizia nullas amicizias. E qui l'antitesi. Che abbiano certo multa auspizia, molti ospiti, molti luoghi dove vengono ospitati per un po' di tempo, ma nullas amicizias, ma nessun vero amico, ma nessuna amicizia. Hanno casa ovunque, ma non hanno di fatto una casa propria, stabile, affidabile e sicura. Ecco il Iis qui nullius se in genio familiariter applicant, sed omnia cursim et properantes transmittunt. Partiamo di nuovo dalla frase principale. Necessa est. È necessario e inevitabile che cosa? Idem accidat. Che accada la medesima cosa a chi? Complemento di termine. Is qui poi la frase relativa. A coloro che se applicant, si applicano, familiariter, in maniera approfondita, a che cosa? Nullius in genio, al pensiero di nessuno. Qui in italiano possiamo aggiungere una negazione. È necessario che lo stesso accada a coloro che non si applicano in maniera approfondita al pensiero di nessuno. Sed, ma, transmitunt omnia cursim et properantes. Ma che attraversano letteralmente tutte le cose, tutti i luoghi dove si trovano, tutti i viaggi che fanno, cursim è un avverbio, di corsa, cursivamente, et properantes, e affrettandosi e facendo tutto di corsa. Osservate le parole che vi ho evidenziato nel testo di colore viola e di colore verde. Partiamo da quelle come vagum, instabile, cursim, properantes. Sono tutti termini per Seneca negativi, propri o del lettore o del viaggiatore frettoloso e instabile. Dall'altro lato osservate invece i termini verdi, immorari, innutriri, familiariter. Secondo Seneca, tanto la lettura quanto il viaggio deve essere un qualcosa di ponderato, approfondito, che si fa lentamente e in maniera costante e profonda. Bisogna indugiare sui libri, nutrirsi di buoni libri e viaggiare con grande parsimonia, e conoscere un luogo o un autore sempre familiariter, in maniera assai approfondita. Ecco dunque perché dicevamo anche nel video scorso che in fondo per Seneca leggere e viaggiare sono un po' la stessa cosa, perché queste due importanti attività umane andrebbero affrontate con lo stesso spirito, con uno spirito costruttivo di lentezza, di selezione e di approfondimento. Il discorso proseguirà poi nei quattro successivi paragrafi della seconda lettera di Seneca Lucilio che esamineremo un po' alla volta nei prossimi quattro video. Vi ringrazio per l'attenzione, se volete lasciate un like e se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube. A presto, al prossimo video! Grazie! Grazie!